Buongiorno e bentornati al meteo di La Sette. Il caldo intenso che ci ha accompagnato finora continuerà anche per i prossimi giorni. Tuttavia tra domani e giovedì di ferragosto il promontorio subtropicale, di cui tanto abbiamo parlato nei giorni scorsi, inizierà a indebolirsi sul Mediterraneo occidentale permettendo l'arrivo di aria più fresca dall'Atlantico. Questo però non sarà sufficiente a far scendere molto le temperature che rimarranno comunque sopra la media di 3-7 gradi. Probabilmente una piccola depressione che inizialmente colpirà le isole Baleari si sposterà verso est nei giorni successivi, portando con sé un nuovo impulso instabile dal Nord Atlantico. Questa evoluzione, prevista tra sabato 17 e lunedì 19 agosto, da confermare, dovrebbe aumentare l'instabilità in Italia e far rientrare le temperature almeno nella norma stagionale. Intanto vediamo le previsioni per oggi, curate come sempre da Paolo Sottocorona. Al Nord giornata per lo più serena o con poche nuvole. Nel pomeriggio qualche acquazzone o temporale a carattere isolato sulle Alpi e Appennini settentrionali, non escludendo qualche sconfinamento su prealpi e pianure limitrofe. Al centro bel tempo, ma nel pomeriggio potrebbero svilupparsi locali fenomeni temporaleschi sui rilievi tra Umbria, Lazio e Abruzzo. Al Sud soleggiato e qualche nuvola in più nel pomeriggio in montagna. Venti deboli da Nord-Ovest su Alto Tirreno, tendente a provenire da sud-est tra le isole maggiori e su Alto Adriatico, Nord-Ovest su Basso Adriatico, occidentali sul Marionio. Mari poco mossi, localmente mossi. Per le temperature poche le differenze rispetto ad oggi, prosegue il disagio per la maggior parte della popolazione, come mostrato dal consueto indice di Tom a sinistra. La mappa delle temperature massime sembra infatti quella di ieri. Al solito le zone di color rosa evidenziano i valori che superano i 36-38 gradi, con punte fino a 40 localmente sulle zone interne del centro-sud. Ora è il tempo per mercoledì 14 agosto, al nord altra giornata che inizia con cielo sereno poco nuvoloso. Nel pomeriggio ci attendiamo qualche rovescio temporale su Alpi, Prealpi, Nord Appennino, possibili episodi anche verso le pianure. Centro bel tempo con i soliti annuvolamenti pomeridiani in Appennino, con il rischio di qualche fenomeno. Soleggiato al sud e al solito qualche nuvola in più nel pomeriggio in montagna, stavolta con qualche possibilità di brevi rovesci, specie in Basilicata. Venti deboli in prevalenza dai quadranti sudorientali tra Sardegna e Sicilia, da quelli settentrionali tra centro-basso Adriatico e Ionio, da nord-est sul golfo di Genova e da sud-est su alto Adriatico, più irregolari sul centro-basso Tirreno. Mari sempre poco mossi, solo localmente mossi. Per le temperature ancora nessuna variazione significativa, mentre quindi prosegue la sensazione di disagio per molte regioni. La cartina delle temperature minime rispetto ad oggi mostra infatti i valori stazionari ovunque. Stazionari non significa che non cambia niente, ma che in generale non ci aspettiamo variazioni significative, non più di uno o due gradi di scarto. Stesso discorso per le variazioni dei valori massimi che oscillano intorno a quelli attuali con poche eccezioni. Al più citiamo la tendenza a qualche diminuzione locale al nord, specie alpi occidentali e alcune zone del centro, ma solo nei pressi delle zone interessate dagli eventuali fenomeni. Infine la tendenza per la giornata di ferragosto. Al nord sole in prevalenza, ma con qualche annuvolamento in più. Sui rilievi, specialmente di nord-ovest, si affaccerà qualche temporale. Al centro per lo più sereno e poco nuvoloso, da segnalare però nel corso della giornata qualche acquazzone sulle zone interne e tendenza a qualche pioggia o temporale anche in Sardegna. Sud soleggiato con poche nuvole, nel pomeriggio probabili locali rovesci o temporali sui rilievi tra Campania e Basilicata. Per quanto riguarda i venti non ci sono particolari variazioni da segnalare rispetto al giorno precedente, ma con tendenza a rinforzi da nord-est sul golfo di Genova. Mari poco mossi, localmente mossi. Per le temperature poche le variazioni anche per il giorno di ferragosto, eccetto in Sardegna, dove è attesa, ma da confermare, una diminuzione più sensibile. Ce lo segnala anche l'indice di Tom, che sull'isola vede quasi scomparire le zone arancioni. Il Natron è un lago d'acqua salata che si trova nella regione di Arusha, in Tanzania. Durante la stagione estiva, gran parte dell'acqua evapora, mostrando un fondale color rosso sangue. Tale colore è dovuto all'accumulo di sodio, caratteristica comune dei laghi in cui si verificano intensi cicli di evaporazione. Utilizzato in passato nelle operazioni di imbalsamazione, il Natron rende le acque del lago simili all'ammoniaca. Pochi animali possono vivere in questo ambiente caustico. Il lago non ha proprietà pietrificanti sugli organismi viventi, ma semplicemente le spoglie già senza vita degli animali, entrate in contatto con l'acqua fortemente alcalina e ricca di sali, non subiscono l'effetto della decomposizione, venendo dunque imbalsamati e resi simili a statue.